Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di distruggere due auto entro 60 secondi dall'atterraggio a corso commercio. Quindi una volta che vi siete scaraventati dal bus verso corso commercio, dovete assicurarvi di distruggere due auto entro 60 secondi dall'atterraggio. Come vedete ci sono tantissime auto, il mio consiglio è quello di atterrare qui perché sono molto vicine tra di loro come potete vedere, quindi avete 60 secondi per distruggere le auto. Il mio consiglio è quello di colpire i punti deboli, come potete vedere le auto in questo modo si distruggono facilmente e in questo modo avrete completato la sfida.